Cinque giorni di evento per celebrare il Carnevale Brindisino dal 10 al 14 di febbraio partendo con una sfilata delle mascherine e per arrivare poi al giorno di San Valentino il bando presentato dall'amministrazione comunale dopo varie polemiche iniziali ha portato alla conclusione e all'affidamento delle iniziative alla società 20e20 che porterà in piazza serate di musica e divertimento. Le iniziative promosse dall'amministrazione comunale partono dal 10 che è sabato e si concludono il 14 che è San Valentino e fra l'altro è anche l'ultimo giorno del Carnevale quindi coincidono queste cose. Abbiamo fatto un bando al quale hanno partecipato delle aziende del territorio l'aggiudicatario di questo bando è l'associazione 20e20 la quale mi ha fornito il programma delle manifestazioni sabato sera ci sarà la manifestazione della sfilata delle mascherine che si concluderà con i DJ in piazza Vittoria per tutti i bambini ma anche per i grandi e gli adulti che vorranno partecipare e poi avremo la domenica mattina che essendo una domenica i bambini sono anche più liberi e i genitori potranno accompagnare questa sfilata di mascherine che verrà fatta tutti i giorni fino al 14. Il tutto si concluderà anche con il San Valentino il 14 dove ci sarà l'arco per fare i selfie per gli innamorati dove ci saranno manifestazioni a piazza Vittoria e che quindi coinvolgerà tutte le famiglie, tutti i bambini